Larissa Romano-Vauleni che è un'attrice statunitense Di origine ucraina da parte di padre, ha partecipato a diversi film, tra cui i più importanti, Dieci cose che odio di te, a fianco di It Legger e Julia Stiles, e il fortunato a Time for Dancing, dove interpreta la ballerina June, ammalata di cancro Nelle versioni in italiano dei suoi film, Larissa Olenic è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane